Il telefono Allora Siamo veramente contenti questa presentazione particolare siamo molto felici di introdurre Daniel Cuttino Daniel Cuttino was born on the 22 of June 96 in the United States of America the role is at opposite the height is 1 meter 94 cm the spike height is 3 meters 25 cm the block in the block he reaches 3 meters and 6 centimeters and the number of the shirts he will play with is 20 nata il 22 giugno 96 negli Stati Uniti d'America il ruolo è di opposto l'altezza è di 1 metro e 94 in attacco attacca 3,25 Amuro raggiunge 306 cm e il numero di maglia come già Daniel ci ha detto sarà il numero 20 number 20 Daniel Cuttino so so with my poor English we will try to to let you say hello to our new team and to your new supporters so what do you want to say as your first words to your new supporters and to your team cosa vuoi dire ai nuovi tifosi e alla tua nuova squadra so if you want to say something to us just to hello I just want to say I'm really excited to start my first professional season with you guys I've been to you excuse me sorry sono molto contenta di affrontare questa prima esperienza professionale all'estero please 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 go on oh ok I've been to Italy a few times and I think it's a beautiful country I really like you know the lifestyle and culture and I know you guys have a lot of supporters who you know watch your games and come to the games and I'm excited to be around that I like the color pink Allora dice l'ultima battuta mi piace il colore rosa è molto orgogliosa e anche impaziente eccitata di affrontare questa nuova avventura conosce il nostro paese per quello di bello che il nostro paese sa offrire l'immagine che il nostro paese ha dato all'estero quindi il buon cibo la vita e lo stile di vita italiana che lei conosce ma non è mai stata in Italia quindi è molto eccitata di affrontare questa esperienza spero di non aver dimenticato ma abbiamo qualcun altro che sa anche l'inglese meglio di me quindi può darci una mano se ci dimentichiamo in quel caso ok now I can't I think that we can ask the press if they want to ask you something otherwise I can't make you the first place se qualcuno vuole fare domande altrimenti facciamo qualche domanda ha un po' di rito qui dice qualche giornalista direttamente in inglese o attraverso il nostro paese attraverso di te come mai che da oggi no